Roma a morsi e li facciamo fatti in casa farina, lievito e aggiungiamo acqua fredda e aggiungiamo i tuorli uno per volta adesso il zucchero e il miele il sale e prima di aggiungere l'olio lasciamo riposare e lo profumiamo con scorza di limone e vaniglia e facciamo lievitare una spennellata d'uovo aspettiamo il raddoppio non me ne vogliono i romani ma un po' di crema pasticcera bilancia bene la panna che sarà un po' troppa latte uova solo il tuorlo zucchero amido di mais e di riso la pastella è pronta un po' di vaniglia montiamo un po' di panna e con il forno una bella spaccatura al centro quasi fino alla fine una panna adesso bisogna fare solo una cosa sporcarsi meraviglioso provate a rifarlo che farò è un po' di panna che farò è un po' di panna ci sono un po' di panna